Mettiamo una squadra che sta facendo bene, che è partita benissimo, che è a un'età media molto bassa, una squadra giovane, ma molto organizzata, con una precisa idea di gioco. Sappiamo che le difficoltà che entriamo ad affrontare domani, perché è una squadra che vada qui a giocarsela, a viso aperto, e sicuramente ci sarà da giocare una partita perfetta, perché è una partita difficile. Noi veniamo da una sconfitta che ci brucia ancora, quindi il nostro approccio alla partita deve essere devastante già da subito, e almeno è quello che spero, perché dopo una partita come quella di domenica, i punti persi in quel modo, sicuramente mi aspetta la mia squadra tanta rabbia e tanta voglia di riprendersi quello che abbiamo lasciato, e quindi l'approccio e l'atteggiamento deve essere di golli giusti. Per quanto riguarda la formazione, i dubbi sicuramente me li porto sempre fino a domani, perché è il merito dei ragazzi, perché si allenano benissimo, indipendentemente da chi indosserà la maglia, che è una partita che va affrontata nel modo giusto, quindi abbiamo bisogno di tutti. Grazie. Grazie.